Ferre, dimmi un po', come si sta in un mondo quadrato? Cioè, è diverso viverci o ti sembra tutto normale e tutto ok? Ma no, Stef, io sono in un mondo normale, guarda, ci sono gli alberi, ci sono i fiori, c'è l'erba, è tutto tranquillo Ferre, provare a facciarti un attimo Ok, 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 ok Ok, dicevi un mondo normale? Stef, che cos'è questa diavoleria dove mi hai portato? Perché è tutto a rovescio? Allora, praticamente siamo in un mondo a forma di quadrato, una sorta di cubo, ok? Ok, dobbiamo sopravvivere in questo posto, ogni faccia di questo cubo è un bioma diverso E dovremo cercare in qualche modo di andare in ogni bioma per prendere quello che ci serve No, Stef E noi dobbiamo vivere e sopravvivere in questo posto No, Stef, mi butto giù e la finisco qua No, bene, dai, dai Sarà facile, te lo prometto E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E io sono Stef, che si chiama Minecraft E oggi siamo qui con una nuova custom map che si chiama appunto Planet Square Ovvero, come da nome dovremmo sopravvivere in un mondo quadrato, proprio letteralmente quadrato Esattamente, è davvero davvero interessante Allora, non sappiamo se faccio un episodio singolo o una miniserie perché comunque è una custom map survival Vedremo un pochettino cosa fare e dipenderà anche da quanto vi piacerà In ogni caso, questa qua è una tendina che il nostro, diciamo, amico che è arrivato a contoppare con un aereo Ha deciso di mettere e c'è una cesta con qualche oggetto Ferre, quindi diciamo che comunque non partiamo totalmente senza nulla Ok Ma qualcosina ce l'abbiamo e abbiamo pure il suo diario Allora, vuoi che ti racconti la sua storia? Certo, ormai sono curiosa come la sapere Allora, praticamente l'aereo ha smesso di funzionare Quindi è atterrato in questo posto Si è creato un rifugio e ha, diciamo, collezionato qualche oggetto utile Che sono quelli che ho preso io Ok Dice non so se potrò sopravvivere E parla di un pianeta molto strano Ci avvisa che ci sono diversi biomi Che la gravità è particolare Che possiamo trovare delle caverne, dei vulcani, dei waterfalls, quindi delle cascate Insomma, dice che si può trovare di tutto E soprattutto il core, quindi diciamo il centro di ogni zona Ok C'è la lava Quindi ci sta, insomma, dicendo Ehi, non scavate troppo in basso Ehi, morirete sempre, quindi, insomma Insomma, c'è un po' avvisato, secondo me, su questa cosa Inoltre ci dice pure che c'è una luna Per ogni pianeta, quadrato, non so bene cosa Per ogni faccia del quadrato Non sono sicuro Perché dice every square planet Quindi non ogni bioma Non lo so In ogni caso, io la luna l'ho vista Sì, è qui dietro, la vedo anch'io Però adesso ci sono le nuvole, vabbè È lì Siamo in un bioma bello tranquillo Questa per fortuna È una bella notizia Sopravviviamo Allora, prima di tutto io mi metto questi bei stivalozzi Mi equipaggio l'ascetta Che secondo me può essere bella E direi di tagliare qualche albero Ok, vai tu, perché per me non c'era l'ascia Quindi Vabbè, adesso ci pensiamo subito Ti passo un po' di legna Fai la crafting table Ti fai un po' di utensili anche tu E iniziamo a farmare Allora, cosa molto importante Per adesso non ho visto neanche un animale Quindi, se cade qualche mela da queste foglie Dobbiamo acciufarla Ok E abbiamo anche bisogno ovviamente di eventuali alberelli Per ripiantare la legna Che altrimenti qua restiamo senza Ok, alberelli ne sono già caduti due Quindi diciamo che non siamo messi male Sì, vai Così inizia a crescere Siamo già a buon punto Ok, io ti inizio a creare una crafting table Dove appunto Craftare tutto quello che ci serve Facciamo così Lo metto vicino al nostro rifugietto Sì, vai Per ora ci teniamo quello Visto che non abbiamo uno nostro Quindi Non so Ma qui dentro non c'è spazio No vabbè, li affianco Li affianco Facciamo qua No, non mi piace Non mi piace Tieni Fere, guarda che bel regalo Ok, perfetto Allora, mele ne sono cadute Eh, no, purtroppo no Ok, pessima notizia numero uno Quattro alberelli in tutto Di cui uno ho già piantato Quindi me ne avanzano tre Ok, ma io ne ho piantato anche un altro Quindi cinque alberelli Ok, ok, perfetto Beh, allora a livello di legna Stiamo già partendo bene Piantali un pochettino ovunque Ovviamente tienili abbastanza distanti L'uno dall'altro Che altrimenti si danno fastidio a vicenda Tagliamo ancora qualche altro alberello Ok, quindi ci prendiamo un bel po' di legna Perché avremo bisogno di tanti blocchi Ovviamente ripiantiamo tutti gli alberelli Che ci capitano Speriamo di avere fortuna Per trovare almeno una mela Perché altrimenti qua Moriamo di fame seduta stante E dopodiché proviamo ad esplorare Il primo bioma Sperando che vada bene E soprattutto che troviamo qualcosa di utile Perché abbiamo bisogno anche di trovare qualcosa Sta tramontando il sole Non lo so fare Io non lo so se Uh, ma quello è il sole? Credo di sì Allora, beh, se c'è la luna lì Magari questo è il sole di questo Di questo bioma Qui sotto Mi sa se si può esplorare anche quello Eh, non lo so In ogni caso A me sembra una follia andare di notte, Ferre Io tornerò nel nostro rifugino Che c'è pure una lucetta Guarda che bellino Ci chiudiamo qui dentro entrambi Vieni, c'è poco spazio Ma ci stiamo Ci stiamo E aspettiamo che finisca la notte Va bene? Sì, dai, sì Ti piace questo bioma per iniziare? Non tanto, però Mi sembra Allora, perché vedo degli alberi Capito? Un po' astiosi Secondo me Non so perché non mi spie No, aiuto, Stef Mamma mia Quanto è profondo Allora Mamma mia Io andrei Aia Che male Allora Vediamo un pochettino Se notiamo qualcosa di interessante C'è la cascata Che possiamo sfruttare per risalire In modo tale Non sprecare blocchi Alberi Che sinceramente Non è che ci servono molto Perché ne abbiamo già tanti Farei Io non vedo molto C'è della sabbia Che certo Noi non abbiamo Quindi potrebbe essere utile Anche la Eh sì Stai bene? Sì, sì Mi sono chiotta Mi sono commentato Tranquillo, no, tranquillo Allora Ho un piano Dimmi Seguimi Allora Ci buttiamo così qua Ok Così qua E dobbiamo stare attenti Perché io ho già fame Quindi non recupero più vita Mi mangio l'unica mela che ho Così almeno qualche cuoricino Lo recupero E dopodiché Scendiamo qua Scendiamo lì E speriamo che ci sia Il passaggio segreto classico Nelle cascate Perché di solito lo mettono Quindi io spero Di trovare qualcosa Non mi sembra ci sia nulla No No Ma magari No, stavo pensando Scavando Però ho paura Che adesso se ci mettiamo a scavare Cominiamo un disastro Quindi eviterei Allora Notiamo se magari c'è qualcosa Di particolare intorno, no? Io non vedo nulla Perché secondo me Non penso che sia Una facciata Del nostro quadrato Solo per prendere risorse Anche perché è difficile Prendere risorse così In verticale Insomma, capito? Quindi non so Se magari c'è qualcosa In cui possiamo entrare Non so Una stanza Una caverna Io da qui non vedo nulla Personalmente Mi aspettavo che nella cascata Ci sarebbe stato qualcosa E invece no Oh mamma mia Ci vorranno sei ore e mezzo Ci vuole una vita Steph Ci vuole una vita Vabbè, è l'unico modo Risaliamo la cascata E andiamo a vedere Un altro bioma Perché questo È stato parecchio Deludente Che bella la vita Ce la possiamo fare Steph Ce la faremo A risalire questa cascata Si spera Ci siamo 40 minuti Vabbè era grande Cioè Non è che Puoi pretendere Di farla in due secondi Diciamo che Sei stato più felice Di risalire questa cascata Con un bel bottino Capisci Vedi che lì ci sono Delle finestre E dei vetri Non è che c'è qualcosa Lì dentro Dai Steph Che cavolo mi butti così Ho pochissimi cuori Accidenti a te Allora Secondo me Qua c'è qualcosa E sì Lo scoprirò Ci vado da sola Senza di te Ma Fere Sono venuto anche io No Steph La casetta Andiamo Fere C'è una chest E c'è una chest Fere Che ho detto Entriamo piano piano Allora Stai calma Stai calma Abbiamo Un uovo di pecora Ecco finalmente Due patate Che possiamo piantare E due ciotole Una Ascolta Mi mangio la carne di zombie Ma dove l'hai trovata La carne di zombie È qui dentro Non l'ho vista No l'ho presa io Vabbè 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 Sto morendo Se no adesso muoio E perdo tutto Piccone di pietra Carne di zombie Name tag per nominare La nostra bellissima pecorella Ovviamente lo faremo Una bottiglietta d'acqua E due torce Ok qui c'è anche una fornace Che ovviamente è vuota Però io direi di prendercela Ce la prendiamo Certo Ce la portiamo a casa Certo Stai scherzando Risparmiamo un bel po' di pietra Non è per niente male Ma anche qui Fere Tu magari non sei molto attenta Però questa qua Non so se è clay o lana Ho un po' di dubbio Penso che sia clay Clay Steph Sì 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 Vero Peccato Per farci i letti Stavi pensando a farci i letti No invece no Invece no Peccato Questa qua è una vera disgrazia Allora guardiamo dalle finestre Se si nota altro Da questa parte non vedo niente Da quest'altra Neanche Però questi ce li prendiamo Scusate un attimino Aspetta Sto controllando Perché sotto Se tu guardi nelle finestre di sotto Mi sembra che ci sia qualcos'altro Oppure no Non lo so Non si capisce bene Allora Io controllo Fere Dimmi C'è un'altra Cioè ma siamo andati Prima nella parte In cui non c'era nulla Qui è piena La vedi? Ok Advecinate Sì sì la vedo Allora mi mangio una pagnotta Che ansia Ok Vado Vai Ma mi vuoi aspettare qua Ovviamente anche tu Ascolta ti aspetto qua Perché io sono lì pronta a morire Quindi Allora inizia Magari a creare una stradina Bucando la sabbia Per risalire Ok Invece che utilizzare i nostri blocchi Buca la sabbia Perché tanto Ma non è che poi mi arriva Cosa ne so Tipo la La lava Quanto devo bucare in profondità Vabbè La senti la lava Prima di toccarla Dai Sì dai in effetti Sì 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 Fere Dimmi Era una trappola Ma come era una trappola Non c'è nulla Guarda È vuota Mi ha fregato Aiuto Aspetta però Magari è un passaggio segreto Fatemi controllare No 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 era proprio vuota Vabbè Fere risaliamo Comunque abbiamo un buon bottino Sì Anche se mi hanno fregato E mi hanno fatto sprecare tempo Comunque va bene Allora 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 Risaliamo così Poi ci facciamo la stradina Qua Però devi fare attenzione Perché non stavamo contando Che la sabbia ci casca in testa Quindi non è semplice fare Tranquilla Fere Tranquilla Tranquilla Dai Fere Sta funzionando come tattica Sta funzionando Forse riusciamo a tornare Nel nostro amato bioma Forse Non lo so ancora Ok Ok Stiamo anche cercando di sprecare Uuuuh Oddio Steph Pensavo fossero quelli Che stavo già bucando Invece questa era sabbia Per davvero Meno male che mi sono spostato subito Allora Fere Torna un po' indietro Ok Attenta Ok Attenta Vai Aspetta Non ci andiamo Passa Fere Ok ok Stavo cadendo Aiuto aiuto Ok Calmi Calmi Ci saranno 200 blocchi da togliere qua Però lo faccio No ma fai la stradina per l'altra parte No no lo guarda 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 Dici Dici di fare tutto Allora aspetta No Steph stai distruggendo tutto Smettila Steph Opla Opla E siamo tornati Dimmi che siamo arrivati Finalmente Se l'abbiamo fatta E' anche per rifare buio mi sa Allora Allora ci dobbiamo un attimo organizzare Sicuramente per la pecorella C'ho già pensato Dobbiamo farle un recinto Perché altrimenti Gironzolando Casca di sotto Guarda Se tu vai Aspetta che l'ho riperso Perché ci sono Qua 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 Esatto Qui si può scendere Comunque trovare anche qualcosa di interessante Ok Ok Non è male Non è male Non è male Facciamoci sia Un piccolo campo di coltivazione Sì E dato che non abbiamo ferro Lo facciamo vicino al fiume Sia facciamo il recinto Per la pecorella Ok Steph vieni a vedere il mio orticello Ok Dov'è? Qui è un po' triste Eh vabbè Aspetta Le risorse sono quelle che sono Aspetta aspetta Guarda Come diventa più bellino adesso Sì È molto triste Molto difficile Ok Io direi Di fare Secondo me una cosa carina Mettiamo anche l'orticello C'è l'orticello Il recintino Per la pecorella A fianco Esatto Guarda Liberiamo un pochettino Così magari ci facciamo Altri due semini da piantare Ok E riempiamo tutto Ecco qua Ecco qua Opla 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 Ovviamente non lo facciamo troppo grande Perché qua Non abbiamo risorse da sprecare Quindi abbiamo una Non è che siamo In momento è solo una Quindi Purtroppo Direi di fare l'essenziale Potevamo dare due comunque Diciamolo Sono stati un po' tirchi Guarda Ok perfetto Però la lasciamo La lasciamo insieme al fiorellino Ok Ciao bella pecorella Come stai? Come stai? Ti vorremmo dare un nome Ma non abbiamo ancora l'enville Quindi non possiamo Ci dispiace Però prima o poi avrei un nome Per adesso sei Il Diciamo La nostra fornitura Per creare dei letti E del cibo E del cibo Ok quindi Del cibo No del cibo no Frey non possiamo ucciderla Eh ma magari Se tu le devi mangiare A fortuna ti fa un figlioletto No Frey Ha bisogno Deve essere in due Per fare un figlioletto Come va fortuna? Spiegami Magari ha già un figlioletto Piuttosto Ok Dimmi Abbiamo anche Della canna da zucchero qua E mi sembra Stupido Non sfruttarla Io direi Di iniziare A moltiplicare La nostra bellissima E farm Di canna da zucchero Guarda Qua da questa parte C'è anche della bella sabbia Guarda Ce ne hai tu lì da prendere Prendi ne due Da una parte Due dall'altra Li pianti E via Ok quindi Ci siamo fatti Il nostro bellissimo Campetto di coltivazione Abbiamo una pecorella Messa nel suo recinto Stiamo iniziando A farmare Anche un pochettino Di zucchero Che potrebbe farci comodo Di sicuro Abbiamo bisogno Di andare in miniera A cercare del carbone Perché qua con la luce Stiamo messi male Perché ogni volta di notte Ci tocca chiuderci qui dentro A non fare nulla È abbastanza noioso Però Non è male Spero che se vi è scusato È tutto Scieteci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare Lì Se iscrivervi Per non perdere Gli altri video Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao